Allora, buonasera ragazzi, video dalla postazione solita delle live Parliamo della notizia di oggi Andrea Agnelli starebbe pensando di stravolgere l'assetto della nostra dirigenza E dico io, era anche ora, finalmente E come direttore sportivo si è fatto un nome in particolare L'ex DS del Lille Che è il portoghese Luiz Campos È stato liberato da Lille proprio a dicembre di quest'anno, scorso dicembre del 2020 E ha costruito una squadra che al momento è un passo dal titolo in Francia Addirittura sopra il Paris Saint Germain È nel mirino però di altri due top club europei Inglesi, ovvero il Manchester United e l'Arsenal Tra le due sembra più in vantaggio lo United e l'Arsenal è un po' più defilato Dopo un periodo al Real Madrid In cui ha lavorato con lo Special One Mourinho È diventato direttore sportivo al Monaco nel 2013 E nel corso di 4 anni fino al 2017 E 17 ha costruito con cura la squadra francese Che ha riportato il titolo a Monte Carlo per la prima volta in 17 anni Rompendo praticamente il dominio del Paris Saint Germain E guadagnando allo stesso tempo oltre 500 milioni di sterline nel mercato dei trasferimenti Poi l'Aventura Lille, altro club francese che ha portato in alto negli ultimi anni a suon di eccellenti acquisti E plus valenze C'è da dire anche una cosa su Luis Campos Che ha scoperto tanti giocatori che alla fine sono diventati grandi Facciamo un nome su tutti Visto che era il direttore sportivo del Monaco Ha scoperto un certo Kylian Mbappé Ha scoperto un certo Camus Rodriguez Se non vado errato ha scoperto anche Bernardo Silva Tutta gente che ha fatto parte del Monaco Che è uscito con noi in semifinale E che fin lì aveva fatto fuori praticamente quasi tutte le favorite Mi ricordo per esempio una partita a suon di gol contro il City Finì 4-4 mi sembra il ritorno Quindi voglio dire non è che questo Luis Campos Sia proprio nessuno 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 Il primo preso così a caso E' una persona che secondo me Zitto zitto potrebbe anche rappresentare un Diciamo un collegamento tra la prima squadra e l'Under 23 Magari potrebbe scoprire alcuni talenti Nella nostra seconda squadra E promuoverli definitivamente Stabilmente in pianta stabile in prima Staremo a vedere cosa succederà a livello Di dirigenza in casa Juventus Innanzitutto bisogna vedere se ci arriva la Juventus Perché ci sono altre due squadre su di lui Io me lo auguro E niente Questo è il quanto Per quanto riguarda la notizia Noi ci vediamo Se tutto va bene dopo Perché c'è un video a sorpresa C'è un video a sorpresa che non parlerà di Juventus E l'argomento lo vedrete dopo Va bene Ci vediamo dopo allora Ciao ragazzi